Benvenuti ad InfoShopping, la rubrica che vi presenta le attività commerciali e artigianali di Caltanissetta. Erboristeria Radici, vieni a scoprire da noi le linee Guam Cell Plus Iodase e le nostre linee solari. Solo qui troverai prodotti per il benessere del tuo corpo, qua di avanti per la tua forma fisica ed inoltre per la circolazione, drenanti ed energetici e anche moltissimi alimenti biologici, dalla quinoa al grano saraceno, farro, kamut e le paste di grani antichi di Sicilia. Vieni a sbizzarrirti inoltre con la varietà di linee make-up viso e corpo. Da 38 anni con voi, oggi nella nuova sede ci trovate in via Mozart 3. Consulta il nostro nuovo sito www.erboristeriaratici.eu Imprese di pulizie COSAT di Asaro Maurizio. La nostra ditta altamente specializzata esegue lavori di pulizia per condomini, uffici, locali commerciali, abitazioni e appalti privati. Visita il sito www.cosatservizi.it. La nostra sede si trova in via Elena 60. Edil.casa. Si effettuano riparazioni di ogni genere a prezzi bassissimi. Promo su porte interne e blindate a prezzi di ingrosso. Porte interne a partire da 130 euro. Porte blindate a partire da 420 euro super accessoriate. Escluso IVA, trasporto e maniglie. Siamo in via Domminzoni 231C. Pizzeria e ristorante La Torretta 2. Cucina tipica siciliana dalla carne al pesce. Specialità della casa. Pipate e zuppa di cozze. Trippa alla parmigiana. Legumeria, baccalaffritto, carne alla brace e il mitico trullo. Solo mangiandolo capirai perché è mitico. Corri a gustare le nostre delizie. Non si può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non si ha mangiato bene. Aperti tutte le sere, escluso il lunedì. Siamo in via Xiboli 389. Falsone Parquet. Fornitura e collocazione di pavimento in legno tradizionali e prefiniti in PVC e laminato plastico. Affidatevi all'elevata esperienza e qualificazione del personale con una consulenza e progettazione personalizzata. Qui da noi, tante soluzioni per avere una pavimentazione perfetta a casa tua. Solo per questo mese, promozione su parquet tradizionale. Ti aspettiamo in via Rosso di San Secondo 62 e visita il sito www.falzoneparquet.com. Troverai imperdibili offerte. Centro Zucchi. Presso il nostro punto vendita troverete uno dei più vasti assortimenti di biancheria per la casa. Cotone, lino, seta, lampsful, cashmere, alpaca. Per vestire la tua casa in tutti gli stili, dal più classico al più moderno. In esclusiva troverete inoltre la nuova collezione Disigual. Siamo in via Palmiro Togliatti, 16. Bar Carbone, un'antica pasticceria nata nel 1960, offre una varietà di prodotti artigianali utilizzando materie prime. Vieni a gustare la nostra specialità. Cornetti artigianali ripieni di una meravigliosa crema di nocciola e pistacchio, magari accompagnati da un buon cappuccino e il gustosissimo gelato artigianale di primissima qualità. Ti aspettiamo in Corso Vittorio Emanuele 1 Zona Badia. Recto Verso, impreziosisci ogni angolo della tua casa con fantastiche produzioni artigianali, ceramiche artistiche, ferro battuto, serramenti, infissi in alluminio e tanto altro ancora. Anche qui da noi saranno disponibili lista nozze e bomboniere. Officina d'arte Recto Verso, in via Redentore 101. Queste erano le proposte di Info Shopping. Appuntamento alla prossima rubrica!